Noi se guardiamo la nostra rosa a me mi piacerebbe giocare sulla posizione numero 8, conosco bene questa posizione anche già da prima, innanzitutto sono contento certamente di essere rientrato nella squadra, mi sento meglio giorno per giorno e voglio anche raggiungere i livelli alti che avevo anche prima, voglio aiutare la squadra e se mi fa giocare domani il mister dall'inizio poi aiuterà del tutto per la squadra. Quello che posso dire è che passo a passo sto meglio, mi sento più forte, da due settimane mi sto allenando con la squadra e adesso mi manca il ritmo, devo fare delle partite per migliorare ancora di più, due mesi sono stati lunghi, un periodo difficile per me, ha durato anche un po' di più tempo di quello previsto ma adesso sono contento di essere ritornato nella squadra e quello che posso portare alla squadra secondo me è la passione, io sono un tipo che vuole sempre vincere e poi sì do tanto, tanto per la squadra, voglio aiutare la squadra con la mia creatività e poi faccio quello che mi dice di fare il mister e io poi cerco di presentarmi, di essere creativo per poter aiutare la squadra a vincere, che questa è la cosa più importante che vinca la squadra. Secondo me la Lazio può raggiungere questi obiettivi che ha come squadra, come società altissima qualità, anche l'anno scorso già giocando con Salisburgo contro la Lazio abbiamo detto che loro sono stati la miglior squadra contro chi abbiamo giocato, siamo stati veramente fortunati l'anno scorso vincendo poi la fine 4 a 1, siamo riusciti di vincere questa partita e sappiamo che, o abbiamo detto ai tempi, che era un avversario molto potente e molto difficile da giocare. Poi sulla Serie A posso dire che è uno dei più grandi campionati che ci sia nel mondo, tra i primi 5 posso dire e sono molto contento, fiero di poter giocare, poter essere qui con la Lazio e giocare per questa società, per questa squadra e poi sulla Serie A si può dire che c'è tanta concorrenza, sono tante squadre forti e si deve dare sempre il 100% perché se no non si vince le partite. Grazie a tutti.